Hai mai avuto un giocattolo Alex? Sì, il giocatto di cielo Qual era il tuo giocattolo preferito? I gormiti Non è vero, dai! Sì, ti giuro C'è pure l'isola, però... Ok, questo non so se si può dire C'è l'isola dei gormiti Avevo l'isola dei gormiti L'abbiamo dovuta buttare via Perché avevo un cane E ci ha fatto delle cose sopra Ci ha cagato sopra Ah, scemo Aspetta, aspetta Amiche? Allora, c'è una nuova storia di Alex Praticamente, quando era piccolo Mi ha raccontato Che aveva la casa dei... No, l'isola dei gormiti E il cane... Ah, la conosco! Sì, l'isola dei gormiti E il cane gli ha cagato sopra l'isola dei gormiti No! Sì! No, mi giuro, mi giuro Ma davvero? Che schifo! Stupido! Ma perché? Stupido! Penso anche che tu hai pianto Quando te l'hanno buttata Certo! Ah, è più bello! Ma dai! Ma non essere così cattivo pure tu Eh, però dai Poi adesso è felice Quindi va bene Ciao! Non è vero Sono ancora la casa dei gormiti Era l'isola dei gormiti L'isola dei gormiti Comunque se hai l'isola dei gormiti Effettivamente secondo me Meriti che, insomma Ti caga sopra il cane Perché non è un... Perché? Beh, non è un acquisto da fare Scusa, eh E poi... Come no? Ma c'erano delle... Tu cosa avevi da piccolo? C'erano già quell'altra realtà Tu... Leo, tu... Cosa hai detto? Non c'erano... Non? Non c'erano... Grazie.